Una luce irradia il mondo, è la madre di nostro Signore. Cari amici, con l'inizio dell'estate molti di voi si prenderanno un tempo di meritato riposo. Sappiate che Radio Maria vi seguirà ovunque e vi terrà compagnia insieme a quelli che invece rimangono nelle loro case. Infatti, in questi mesi i nostri programmi non subiranno rallentamenti e continueranno ad addiettare le vostre giornate, arricchendole con nuove iniziative. Vi chiediamo però di ricordarvi di dare il vostro sostegno a Radio Maria anche in questo periodo dell'anno, nel quale le offerte sono in calo, ma le spese sono uguali. Offriamo alla vostra meditazione alcuni pensieri della Regina della Pace che aiutano a trarre profitto del tempo di riposo sia per l'anima come per il corpo. Diceva nel messaggio del 25 agosto del 99 Cari figli, anche oggi vi invito a dare gloria a Dio, a Dio creatore nei colori della natura. Attraverso il più piccolo fiore vi parla della sua bellezza e della profondità dell'amore con cui vi ha creati. Figlioli, la preghiera sgorghi dal vostro cuore come acqua fresca da una sorgente. Che i campi di grano vi parlino della misericordia di Dio verso ogni creatura. Perciò rinnovate la preghiera di ringraziamento per tutto quello che Dio vi dà. Poi nel messaggio del 25 luglio del 2001 Cari figli, utilizzate bene il tempo di riposo e donate alla vostra anima e ai vostri occhi il riposo in Dio. Trovate la pace nella natura e scoprirete il Creatore. Il Creatore al quale potrete rendere grazie per tutte le creature. E allora troverete la gioia nel vostro cuore. Poi in un altro messaggio sempre nel luglio ma nel 2008 Cari figli, in questo tempo in cui pensate al riposo del corpo, io vi invito alla conversione. Pregate e lavorate in modo che il vostro cuore anelli a Dio Creatore, che è il vero riposo della vostra anima e del vostro corpo. Che Egli vi riveli il suo volto e vi doni la sua pace. Cari amici, seguendo questi meravigliosi consigli della Madonna ritorneremo dalle vacanze pronti ad affrontare con rinnovata energia le nostre fatiche quotidiane. Grazie cari amici per l'amore che dimostrate per Radio Maria. Grazie a tutti gli ascoltatori che sono divenuti sostenitori. Grazie alla schiera dei numerosi volontari. Grazie a tutti coloro che assegnano le 5 per mille a Radio Maria. Grazie a quelli che si impegnano con un'offerta regolare, con il SEPA. Grazie per i sacrifici e le preghiere con i quali rendete efficace l'opera di Radio Maria. E un grazie speciale di cuore anche a tutti coloro che si ricordano dei bisogni di Radio Maria prima di ritornare alla casa del Padre. A tutti assicuriamo la nostra preghiera. Regina di Radio Maria prega per noi.